Abbiamo un Master 40, un Master 40 veramente di eccellenza, è austriaco di Vienna, siamo contenti di averlo qua con noi stasera a questa gara, sicché un grosso applauso per essere venuto da lontano. Allora NABBA prevede le categorie di New Yorkers, Master 40, minima, piccola, media e alta taglia, le figure sopra 1,63 e sotto 1,63. Oggi non riempiamo tutte le categorie logicamente, ma abbiamo un Master 40, una minima taglia e due. Aspettiamo un attimo perché dobbiamo togliere un po' di mallo dal pavimento altrimenti è scivoloso. Ok, sì sì, sicuramente. Grazie. Allora, li chiami tu? Sì, allora arrivato credo la categoria minima taglia numero 11, Andrea Corso. Che è una minima. Passiamo alla piccola taglia numero 17, Tessore Gabriele. numero 17, Tessore Gabriele. Che è una piccola taglia. Un'altra piccola taglia numero 18, Michael Simonini. Michael Simonini. Prego, Michael. Michael Simonini numero 18. Eccolo, ok. il 18 di qua. Ok, noi abbiamo delle categorie diverse. Master 40, una classe 4, all'estero si dice sì, classe 4, classe 3, classe 2. La 1 non c'è, che sarebbe l'alte taglia. Ok, cominciamo a fare un po' d'obbligatorie. Il doppio bicipite. Double visor. Ok, giù. 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 Dorsali. giù. Bianco destro. No, no, no. Bianco destro. E spazzola toracica. Ok. Chest rest. giù. 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 Giù ok, girate di schiena, doppio bicipite, double visor, ok, terza posizione dorsale, ok, fronte, addominali e gambe, ok, più muscoloso ragazzi, su, master musculo, la posa è più muscolosa ragazzi, su, ok, allora io andrei con i tre atleti con la routine individuale, ok, nel frattempo Marco Simonini si riposa un po', ok, dietro backstage, grazie, ok,